Genus Shine Walks, c'è la lucida arricchita con olio di jojoba, perfetta per definire le punte terminate la piega o per acconciare una capigliatura maschile qualora ciò che desideriamo ottenere è un effetto lucido e glam. Applicarne una piccola quantità sul palmo della mano e poi andare direttamente una volta terminata l'acconciatura o l'asciugatura a definire le parti interessanti. Grazie